Ciao a tutti ragazzi, bentornati su The Guardians, qui è il vostro Shanks che vi parla e questo è il consueto appuntamento settimanale con Xur. Come state vedendo dalle immagini, questa settimana Xur si trova in fondo alla sala da ballo e lo troverete qui dal venerdì alle 10 alla domenica mattina alle 10. Come al solito in cambio di strane monete vi venderà cose più o meno utili. Cominciamo subito con i soliti scambi di materiale e curiosità che come vedete sono sempre quelli e non cambiano per passare all'engramma storico che è un'armatura per il torace. Questa settimana invece come arma dell'anno 2 vende Signora del Tuono che è un'armità agliatrice. Abbastanza carina da vedere, è tra le più forti ma non è la più forte. Ha proiettili di fulmine che più a lungo si preme il grilletto più spara veloce e precisamente sì, equilibrio perfetto che ha un riculo estremamente ridotto, aumenta la capacità di munizioni e ricarica quest'arma ancora più velocemente. Troviamo anche frenesia alimentare che le uccisioni ci permettono di ricaricare più velocemente, oltre alla balistica di precisione, strozzatura che aumenta gittata a impatto e compensatore lineare che ha un riculo più prevedibile. Il parco esotico sono i danni ad arco, se così possiamo dire. Molto comoda in PvP e in PvE, come ho già detto però è una delle mitagliatrici più forti ma non è la più forte. Mentre per lo stregone troviamo i vestimenti dell'alchimista, un pezzo tanto bello quanto inutile, con salvabracci dell'arco che riduce i danni e armatura d'arco che aumenta l'armatura mentre usiamo una sottoclassa d'arco. Abbiamo munizioni pesanti e munizioni speciali, un aumento di forza e l'aumento di intelletto, con il parco esotico da acciaio ad oro che ci fa guadagnare lumen raccogliendo munizioni primarie e con la super piena le sfere di energia ricaricano l'energia delle granate del corpo a corpo. Come ho detto, prezzo inutile, se lo volete nella vostra collezione compratelo, altrimenti evitatelo. Con il nostro cacciatore invece troviamo il nesso dei bruciatori, con la solita infusione che conoscerete tutti ormai. Mani nel sacco che uccide le mostre dell'oscurità col corpo a corpo fornisce super energia e carico pesante che invece ucciderli con le munizioni pesanti ci fornisce super energia. Inoltre abbiamo tiratore versatile dove le uccisioni con armi pesanti generano sfere di luce e per la super piena le uccisioni possono generare munizioni speciali. Comodo in PvE ma neanche tanto. Col titano invece abbiamo questo bellissimo casco con gli ingranaggi che si vedono che si chiama Empirio Berlicoso. Anche qui troviamo infusione, mani nel sacco e carico pesante, come sul cacciatore, con l'aumento di disciplina e di intelletto. Il parco esotico ci promette di rimanere in volo a mezz'aria mentre ammioriamo e quando abbiamo la super piena le sfere di luce ricaricano l'energia del corpo a corpo. Veramente bello, comodo sia in PvP che in PvE se vi piace rimanere sospresi a mezz'aria. Altrimenti anche questo pezzo di scarsa utilità. Va bene ragazzi, anche questa settimana Xur è arrivato, ha portato con sé il suo sacco di schifezze quasi inutili, soprattutto perché molte cose ormai le avrete già nel vostro inventario e quindi vi sarete fatti un'idea anche voi della loro utilità. Purtroppo ormai le armi sono quelle. Per quanto riguarda noi invece vi ricordo di lasciare un mi piace al canale e di iscrivervi, di venirci a trovare sulla pagina Facebook, sulla pagina del clan Bungie.net, su Twitter e su Twitch. Trovate tutto in descrizione. Ciao!